Roberto Boninsegna nasce il 13 novembre 1943, è stato un grandissimo calciatore e poi ha proseguito la sua carriera come allenatore e quindi come dirigente. Le squadre principali in cui ha militato sono il Cagliari, l'Inter e la Juventus. È stato anche capocannoniere per due anni consecutivi nel 1971 e nel 1972. Il grande giornalista Gianni Brera ha detto che lui insieme a Gigi Riva era in quel periodo il più forte attaccante del mondo. In effetti era veramente straordinario, in particolare perché riusciva a essere agile, scattante, a sgusciare in mezzo agli avversari anche con la sua irruenza ma anche con la sua agilità pur non essendo altissimo di statura. Tutti noi lo ricordiamo, anche io anche se ero molto piccolo, nella finale dei campionati del mondo di calcio del Messico. Lui è stato colui che ha segnato il primo gol, l'1 a 0 contro il Brasile, anche se poi la partita è finita male perché i Carioca guidati da Pelé hanno finito per prevalere con il risultato di 4 a 1 e quindi noi siamo rimasti soltanto vice campioni del mondo.